Una nave da crociera lunga più di 300 metri, per 4.000 passeggeri e 3.000 persone di equipaggio. Tanta roba! Teatro dell'evento, tenso struttura trasparente di 2.000 metri quadri, allestita sul Ponte dei Mille, con palco e tribuna per 2.500 ospiti. Che sballo sulla lanterna simbolo di Genova, installazione laser visibile da tutta la città. Trade Contest, giochi sul web per 60.000 agenzie e viaggi, tradotto in 11 lingue. Facebook Game per il pubblico con più di 50.000 giocate. 2.000 metri quadri di videomapping interattiva per il pubblico. In palio? Quattro crociere. Cerimonia per 2.500 ospiti, dicevamo. Tra cui Gagliani, De Laurentiis, Roberto Bolle, Gino Paoli, Ennio Morricone con orchestra e visual dei suoi film. Caso unico, sinfonia per tre navi da crociera al centro del porto di Genova. Tutto questo trasmesso live in piazza con i commenti di Ale Franz. Madrina d'eccezione, che ve lo dica fa, Sofia Loren. ATL, BTL, stampa, guerriglia, evento, promo, video, unconventional, corporate, digital, ideato, prodotto e integrato da Piano B. Iscriviti al canale.